Dei due milioni di italiani in vacanza, diverse migliaia hanno scelto l'Abruzzo. Sebbene i numeri non siano ancora noti, Ferragosto nell'Aquilano ha fatto registrare altissime presenze. Nella sola giornata del 15 agosto sono stati circa mille i passaggi sulla funivia che da Fonte Cerreto porta Campo Imperatore sul Gran Sasso. Si conferma la presenza di numerosi turisti provenienti dalle regioni limitrofe come Marche, Umbria e Lazio e continuano a crescere i numeri delle presenze dei turisti provenienti dal nord Italia. Un bilancio decisamente positivo, aiutati anche dal Tempo Bello. C'è tanta presenza, veramente tanta gente. In crescita anche la presenza di turisti stranieri, soprattutto europei. Ogni giorno si scopre qualcosa di più dell'Abruzzo. La richiesta maggiore agli infopoint è l'esperienza nel parco del Gran Sasso. Cose da fare, da vedere e da mangiare. Stanno scoprendo una montagna che non si aspettavano. Parlavo con alcuni del nord ieri e sono rimasti veramente stupiti. Chi viene per la prima volta rimangono allibiti, rimangono stupiti. Cioè di questa montagna che non ha niente a invidiare alle Dolomiti come localizzazione, non come catena. Però diciamo che rimangono tutti contenti. Poi abbiamo sistemato l'accoglienza sotto abbastanza ben organizzata. C'è l'ostello che funziona a pieno, c'è il rifugio Fontari che funziona a pieno. Sono gli alberghi alla base della Punivia che sono tutti quanti funzionanti. Per andare al rifugio degli Abruzzi c'è un sentiero completamente pieno di gente che sale e scende. Sembra di stare in centro, passeggiare in centro. Veramente tanti, su a Corno Grande, a Monte Aquila, a Pizzocena. Cioè sono tutte mete raggiungibili abbastanza agevolmente, entro 2-3 ore di marcia, 3-4 ore di marcia. Ma sono molto molto frequentate. L'Aquila città si conferma lo snodo territoriale tra arte, cultura, gastronomia e montagna. Accogliendo nelle strutture ricettive tanti turisti che giornalmente visitano il Parco del Gran Sasso.